amici di you thailandia ben trovati oggi un video tutorial dedicato alla compilazione del thailand pass ma prima la sigla eccoci qua carissimi come annunciato in apertura oggi faccio questo video tutorial per vedere insieme a voi come si compila il thailand pass che come saprete dal primo novembre scorso ha sostituito quasi definitivamente il coe il vecchio certificato di ingresso in thailandia il thailand pass non è altro che un sistema online attraverso il quale inserendo step by step dei dati che poi andremo a vedere insieme quali sono ci consentirà in pochi giorni di ottenere un qr code che ci garantirà se rilasciato l'ingresso in thailandia e diciamo lo snellimento di procedure di controllo andremo a vedere insieme in questo video qual è il sito il nuovo sito del thailand pass e come si compila e quali sono di fatto le condizioni lo faremo tramite condivisione dello schermo ma prima di cominciare vi ricordo di acquistare la mia guida bangkok riverside la trovate su amazon bene adesso condividendo lo schermo andiamo passo per passo a vedere come ci si approccia al thailand pass allora carissimi eccoci in condivisione dello schermo mi trovo già sul sito attraverso il quale è possibile registrarsi per l'ottenimento del thailand pass questo è l'indirizzo tp punto consular punto go punto th siamo già in diciamo interfaccia in inglese e essendo non thai andiamo a cliccare su questo bottone english language ci chiede di confermare ed eccoci qua allora ovviamente guardate qua per cittadini vi riepiloga diciamo non thai di altre nazionalità for air travel only quindi solo per chi entra in thailandia per via aerea allora ci sono subito tre alternative per quanto riguarda l'applicazione diciamo del thailand pass e questa è quella che ci interessa cioè entrare in thailandia con modalità test and go che è la grande novità che è partita dal primo novembre ne ho parlato approfonditamente nell'ultimo video quindi andate a guardarvelo se ancora non avete capito bene di cosa sto parlando quindi test and go brevemente si entra in thailandia dovendo sottoporsi ad un ad una sola notte di quarantena e con test da ripetere appunto in loco al vostro arrivo oltre al test con il quale siete partiti dall'italia fatto 72 ore prima poi ovviamente c'è anche la finestra sandbox program e poi quello di quarantena alternativa che è per tutte le persone che ad esempio non sono ancora vaccinate e che dovranno farsi dieci giorni di quarantena ma torniamo a quello che diciamo ci interessa diamo per scontato che si voglia entrare in thailandia con la formula test and go queste sono le condizioni che vi vengono riepilogate quindi ovviamente passeggeri dalla lista che dei paesi che ha selezionato il governo thailandese che è arrivata una sessantina fra cui l'italia e poi qui abbiamo diciamo il fatto che non si farà la quarantena dopo aver fatto il tampone in arrivo e ovviamente i soliti paesi territori ovviamente solo per turisti vaccinati e che si presentino in thailandia al loro arrivo con un tampone un test con esito negativo fatto nelle 72 ore antecedenti la partenza i documenti che vi verranno richiesti per l'upload sono il passaporto un visto se richiesto e un certificato di vaccinazione e l'aver acquistato il pacchetto albergo e tampone in struttura di quarantena alternativa o sha plus in più l'assicurazione con una copertura minima di 50 mila dollari è stata ridotta come vi avevo detto nel video precedente dai 100 mila ai 50 mila dollari non ci resta quindi che selezionare questa alternativa qui vi vengono riepilogate leggete sempre bene tutto le condizioni per accedere a questa tipologia quindi una volta che le avrete lette con molta attenzione cliccate qui per accettazione e confermate a questo punto entriamo nel vivo proprio il primo passo alla compilazione e la prima cosa che vi chiedono è il motivo del vostro viaggio in thailandia travel quindi turismo business motivi di studio motivi di salute rientro in thailandia o altri motivi qui apro una parentesi voi sapete ne abbiamo già parlato che ahimè la thailandia è per il governo italiano in lista e quindi di fatto per motivi di turismo noi non potremmo entrare in thailandia ognuno di voi faccia le dovute considerazioni questo ve lo dico proprio il momento in cui andrete a flaggare a spuntare la prima voce in cui vi chiedono travel poi dovrà essere diciamo quindi mettiamo travel adesso poi ci chiede di selezionare il paese di provenienza in questo caso andremo a spuntare italia partendo dall'italia il primo punto di arrivo in thailandia quindi vi chiede di inserire ovviamente l'aeroporto su varnabuni l'aeroporto internazionale il numero di volo prima di compilare il form per il thailand pass vi ricordo che dovrete avere acquistato il volo quindi inserire il numero di volo e la presunta diciamo c'è la presunta la data di arrivo in thailandia quindi qui dovrete mettere cliccatevi si apre il calendarino immaginiamo di arrivare il 30 novembre e poi una data stimata per la vostra ripartenza che appunto non so adesso immaginiamo andiamo a dicembre facciamo un 15 dicembre quindi un paio di settimane flight number mettiamo adesso e k 235 vado a caso è ovviamente sto facendo una simulazione procediamo con la registrazione e e qui vi chiede ancora diciamo di accettare le con alcune condizioni di leggere bene diciamo quanto qui riportato date la conferma adesso entriamo nella compilazione dei campi più personali ora io non andrò a compilarli ad ogni modo qui il titolo mister missis insomma quanto altro il nome principale il secondo nome se lo avete e comunque dovete riportare i nomi indicati così come la vostro passaporto il family name quindi il cognome la nazionalità ancora una volta potete scegliere metterete italia la data di nascita la vostra email e poi vi chiederà di confermare le mail e poi a questo punto prima di procedere oltre bisognerà inserire i dati relativi al passaporto tipo di passaporto passaporto ordinario a meno che non abbiate altri tipologi di passaporto non so come diplomatico di emergenza insomma quanto altro qui dovrete riportare il numero di passaporto e fare un upload un upload in di un documento in formato fotografico jpeg e png di fatto dovrete fare una la scannerizzazione vedete qui ve lo spiega bene della pagina dove ci sono i dati relativi diciamo i vostri dati nel passaporto attenzione guardate bene vi fa vedere solo quella pagina non tutto esteso aperto a questo punto potete aggiungere altre informazioni ad esempio se ci sono al seguito con voi figli sotto i 12 anni insomma quanto altro procedete next e vi porterà diciamo poi ora non vado avanti ma il passo successivo è quello di caricare fare un upload e una prova di vaccinazione poi confermerete contact accommodation qui probabilmente vi chiederanno di inserire l'indirizzo dell'albergo presso il quale avrete prenotato eh albergo di quarantena alternativa o sha plus eh la il soggiorno per la prima notte e eh quindi il pacchetto che include anche il tampone all'arrivo confermando passerete all'ultimo step che è quello dell'insurance quindi l'assicurazione dovrete caricare diciamo le condizioni dell'assicurazione con una copertura minima di almeno 50 mila dollari e poi confermerete e vi arriverà un email di conferma e nei giorni successivi il eh se sarà accettato il vostro Thailand Pass che di fatto consiste in un QR code no sapete tutti che cos'è scannerizzando questo codice con qualsiasi applicazione relativa presente nei nostri cellulari si può accedere a tutta una serie di informazioni e l'elaborazione rilascio del Thailand Pass ammesso che i documenti siano corretti può variare dalle 48 ore i tempi di rilascio anche tre o quattro giorni e si consiglia di compilarlo a partire diciamo da sette dieci giorni prima della partenza prima programmata quindi prima del vostro volo di andata e detto questo fate però mi raccomando come vi ho fatto vedere in apertura video le dovute considerazioni tenendo ben presente che per l'Italia per il per il governo italiano l'Italia è in lista e ne ho parlato in modo approfondito nel precedente video come vi dicevo in cui vi spiego esattamente che cosa significa essere in lista e e vi ho dato anche qualche dritto qualche consiglio ovviamente fate le vostre valutazioni perché essendo in lista e c'è il rischio di vedersi negato l'imbarto in partenza da un qualsiasi aeroporto italiano se non avete a disposizione i dopo la giusta documentazione bene carissimi spero di essere stato sufficientemente chiaro e mi raccomando fate sempre le vostre considerazioni soprattutto tenete bene a mente che l'Atalandia è in lista e almeno fino al 15 dicembre poi vedremo che cosa accadrà e mi raccomando commentate condividete se qualcuno è già partito ha compilato il thailand pass ha fatto tutte le procedure magari nei commenti ci faccia sapere qual è stata la sua esperienza e come si sta trovando in questo momento in thailandia ovviamente com'è la situazione io vi saluto commentate condividete iscrivetevi al mio canale youtube se non l'avete ancora fatto e cliccate anche sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei video aggiornamenti e iscrivetevi alla mia pagina facebook matteo in asia e ovviamente acquistate la mia guida bangkok riverside un caro saluto da matteo in asia ciao